Buongiorno cari amici, benvenuti a questa nuova puntata con la matematica. Oggi continuiamo la lezione precedente affrontando le proprietà dei logaritmi. Se siete pronti partiamo immediatamente. Vediamo in questo frangente la proprietà della somma che diventerà una moltiplicazione e la proprietà della differenza e la metteremo in stretto contatto con l'operazione di divisione. Vediamo cosa succede se noi sommiamo due o più logaritmi che hanno la stessa identica base. Quindi se noi abbiamo logaritmo su una certa base di A più logaritmo su una certa base di B meno logaritmo su una certa base di C, vediamo che cosa diventa. In pratica diventa un solo logaritmo in cui abbiamo logaritmo di A per B tutto diviso C. Quindi vedete che il più noi lo abbiamo trasformato in per, quindi il prodotto all'interno degli argomenti, quindi all'interno degli stessi logaritmi, mentre abbiamo trasformato il meno in diviso. Adesso vediamo l'altra proprietà che metterà a stretto contatto la moltiplicazione con la potenza e la divisione con la radice, quindi la vedremo in un solo colpo. Vediamo cosa succede se abbiamo H su K che moltiplica il logaritmo di A. In pratica noi possiamo prendere la costante che moltiplica il logaritmo e spostarla come esponente dell'argomento del logaritmo stesso e quindi avremo logaritmo di A elevato alla H su K che possiamo anche scrivere come logaritmo della radice k, quindi l'indice K, di A elevato all'H. Vi faccio notare che H che era il numeratore di questa frazione e che quindi moltiplicava il logaritmo finisce come esponente del radicando, scusate, dell'argomento del logaritmo che in questo caso era A. Mentre K che divideva in qualche modo il logaritmo andava a finire come indice della radice. Vediamo qualche esempio di applicazione di questa proprietà. Partiamo da questo primo esempio, quindi 3 volte il logaritmo di 2 più 2 volte il logaritmo di y meno un mezzo logaritmo di x. Cominciamo dunque col trasferire all'esponente degli argomenti dei logaritmi i suoi coefficienti. Quindi avremo il 3 lo mettiamo sopra all'esponente del 2, quindi diventa logaritmo di 2 alla terza più il 2 lo spostiamo quindi all'esponente della y, quindi diventerebbe logaritmo di y alla seconda e l'1 mezzo facciamo la stessa cosa, lo mettiamo come esponente di x. Vi faccio notare che x elevato alla 1 mezzo diventerebbe la radice quadrata di x. A questo punto siccome abbiamo una somma, una sottrazione di logaritmi, andiamo a moltiplicare quindi al numeratore di questa frazione tutti i logaritmi con segno positivo davanti, quindi 2 alla terza che in questo caso fa 8 per, quindi trasformiamo il più in per all'interno dello stesso logaritmo y alla seconda e spostiamo all'interno dello stesso logaritmo al denominatore tutti i logaritmi con segno meno davanti, quindi spostiamo gli argomenti al denominatore, in questo caso ho spostato radice di x al denominatore. Vediamo il secondo esempio, quindi se abbiamo 2 volte logaritmo di 3 più logaritmo di 5 più 3 volte logaritmo di x meno 2 terzi logaritmo di y, facciamo la stessa operazione che abbiamo fatto nell'esercizio precedente, quindi cominciamo con lo spostare all'esponente dei logaritmi i coefficienti che si tornano davanti, quindi questo 2 lo sposteremo come esponente del 3, quindi diventerà logaritmo di 3 alla seconda, qui lasceremo uguale, anche questo 3 lo sposteremo all'esponente, quindi diventerà logaritmo di x alla terza e poi meno questo 2 terzi lo portiamo come esponente, quindi diventerebbe y elevato alla 2 terzi, vi faccio notare che scrivere y elevato alla 2 terzi è come scrivere la radice cubica di y alla seconda. A questo punto mettiamo tutto all'interno dello stesso logaritmo, quindi quei logaritmi che hanno un segno positivo davanti, i suoi argomenti li moltiplicheremo, quindi 3 alla seconda fa 9 per 5, chiaramente questo sarebbe un 45, x alla terza, quindi che moltiplica x alla terza, al denominatore di questo logaritmo metteremo gli argomenti di quei logaritmi che avevano segno meno davanti, quindi qui finisce il radice cubica di y elevato alla seconda. E a questo punto impacchettiamo il risultato come logaritmo di 45x alla terza fratto radice cubica di y alla seconda. Vi faccio notare che quando scrivo i logaritmi senza base vuol dire che in questo caso hanno la stessa base comune, quindi qui ci poteva essere 2, 2, 2 e io avrei riportato all'interno del logaritmo che racchiudeva tutti i logaritmi, chiaramente la stessa base dei logaritmi. Siccome non mi interessa focalizzarmi sulla base dei logaritmi, allora in questo caso non scrivo la base. Vediamo quindi il prossimo esercizio. Se abbiamo 3 volte logaritmo di x meno un mezzo logaritmo di y più 2 logaritmo di z, vediamo che cosa diventerebbe. Prima cosa prendo sempre i coefficienti e li sposto come esponenti degli argomenti, quindi log di x alla terza meno log di y elevato alla un mezzo, quindi questo un mezzo lo porto all'esponente così come questo 2, quindi qui diventerebbe z alla seconda. Ricordiamo comunque che y elevato alla un mezzo è y alla prima sotto radice quadrata che posso scrivere come radice quadrata di y e qui riproduciamo la solita cosa per cui quei logaritmi che hanno segno positivo davanti, riporterò gli esponenti, quindi riporterò gli argomenti al numeratore moltiplicandoli tra di loro, mentre quei logaritmi che hanno segno negativo davanti cercherò quindi di portarli al denominatore di questa frazione, quindi spostandoli al denominatore. Vediamo quindi il quarto esercizio, abbiamo 3 volte logaritmo di 3 meno logaritmo di y più 2 quinti logaritmo di x meno un terzo logaritmo di y, qui vi faccio notare che è come se avessimo in meno logaritmo di x e più 2 quinti logaritmo di x, è come se avessimo una somma di termini simili, la svolgiamo in parte, quindi se noi raccogliessimo log x avremo meno 1 che è il primo coefficiente più 2 quinti che è il secondo coefficiente, si tratta di una somma di frazioni, faccio il denominatore comune e a questo punto faccio meno 5 più 2 al numeratore e otteniamo meno 3 quinti, quindi il nostro testo diventerebbe 3 volte logaritmo di 3 meno 3 quinti logaritmo di x che è il calcolo che abbiamo appena svolto, meno 1 terzo logaritmo di y, quindi a questo punto abbiamo quindi logaritmo di 3 alla terza meno logaritmo di x alla 3 quinti meno logaritmo di y alla 1 terzo, chiaramente abbiamo portato all'esponente degli argomenti del logaritmo queste quantità, ricordiamo che x elevato a 3 quinti non altro è che radice quinta di x alla terza e che y elevato a 1 terzo non è altro che radice cubica di y alla prima, quindi l'esponente lo porto al numeratore, cioè il numeratore lo porto all'esponente, il denominatore lo porto come indice della radice e a questo punto chiudiamo l'esercizio inglobando tutto all'interno di uno stesso logaritmo, quindi diventerebbe logaritmo di linea di frazione, al numeratore faccio mettere gli argomenti di quei logaritmi che hanno segno positivo davanti, al denominatore moltiplico gli argomenti di quei logaritmi che hanno segno negativo davanti, quindi radice quinta di x alla terza per radice cubica di y alla prima finisce al denominatore. In questo esercizio invece faremo il procedimento inverso, quindi partiremo da un logaritmo che ha come argomento diciamo una frazione in cui abbiamo dei prodotti al numeratore e dei prodotti al denominatore, se andiamo a vedere questo logaritmo, cioè logaritmo di 3x alla seconda fratto y cubo per z qua alla quarta, vediamo che al numeratore c'è un prodotto di due potenze, la prima con base 3 ed esponente 1, la seconda con base x ed esponente 2, al denominatore c'è un prodotto di due potenze, la prima con base y ed esponente 3, la seconda con base z ed esponente 4. Cominciamo con scrivere una somma o una differenza di logaritmi e di scriverla in questo modo, cioè tutti quei argomenti che noi troviamo al numeratore che sono sotto forma di prodotto, noi li mettiamo all'interno della somma di logaritmi, quindi vedete questi due logaritmi che hanno un segno positivo davanti in quanto i loro argomenti stanno al numeratore di questa frazione, mentre tutti quei denominatori, quindi quelli che sono delle potenze al denominatore di questa frazione, noi li metteremo come logaritmi, quindi li smembreremo, però metteremo davanti ai logaritmi segno negativo, quindi avremo log di 3 più log di x alla seconda e poi quelli che sono al denominatore metto segno meno davanti al logaritmo, meno log di y 3 meno log di z4. A questo punto porto gli esponenti che sono degli argomenti di questi logaritmi come coefficienti dei logaritmi stessi, quindi questo 2 di x alla seconda lo porto davanti al logaritmo, idem per questo 3 lo sposto davanti, idem per questo 4 lo sposto davanti e abbiamo la nostra formula finale logaritmo di 3 più 2 volte logaritmo di x meno 3 volte logaritmo di y meno 4 volte logaritmo di z. Proseguiamo con quest'altro esercizio, quindi se abbiamo logaritmo di linea di frazione radice di xy al numeratore fratto 3 al denominatore, ricordiamo una proprietà dei radicali, quindi il radicale di un prodotto è il prodotto dei radicali che hanno lo stesso indice, quindi se abbiamo radice di xy lo posso anche riscrivere come radice di x che moltiplica radice di y, siccome questa è una radice quadrata allora posso anche riscrivere questa cosa come x elevato alla un mezzo per y elevato alla un mezzo. Quindi a questo punto avrei logaritmo di x alla un mezzo per y alla un mezzo fratto 3, guardo al numeratore ho un prodotto di due potenze, la prima con base x ed esponente un mezzo, la seconda con base y ed esponente un mezzo e al denominatore una potenza che ha come base 3 ed esponente uno, quindi stessa procedura. Quindi scrivo con segno positivo davanti quei logaritmi in cui gli argomenti risultano al numeratore, quindi logaritmo di x alla un mezzo, poi trasformo il per in più più logaritmo di y alla un mezzo meno logaritmo di 3 e da questo punto prendo gli esponenti che sono davanti a questi logaritmi spostandoli quindi davanti ai logaritmi stessi e quindi posso fare un mezzo log x più un mezzo log y meno logaritmo di 3. Vediamo quest'ultimo esercizio, anzi facciamo penultimo, quindi logaritmo di linea di frazione 180x alla terza tutto fratto radice di x per radice cubica di z, cominciamo a riscrivere alcuni di questi termini in un modo più di prodotto di potenza. Se prendiamo ad esempio il 180, io adesso ho provato a scomporlo in questo modo, potete fare anche la classica tabellina in cui fate la linea, quindi è un 10 per 18, il 10 è 2 per 5, il 18 è il 9 per 2, 9 è 3 alla seconda, quindi raggruppando tutti i membri, 2 per 2 fa 2 alla seconda, per 3 alla seconda, per 5, la radice di x la posso scrivere come sempre x alla un mezzo, mentre la radice cubica di z la posso scrivere come z elevato alla un terzo, quindi a questo punto il mio testo diventa logaritmo di 2 alla seconda, per 3 alla seconda, per 5 alla prima, per x alla terza, per x alla un mezzo, per z alla un terzo, a questo punto ho saltato il passaggio intermedio in cui scrivevo log di 2 alla seconda, più log di 3 alla seconda, eccetera, eccetera, ho direttamente portato davanti gli esponenti, quindi è 2 volte logaritmo di 2, più, perché c'è il per 2 volte logaritmo di 3, più, perché c'è il per logaritmo di 5, più, perché c'è il per 3 volte logaritmo di x, poi gli ultimi due logaritmi li scrivo con segno meno x alla un mezzo, quindi meno un mezzo x logaritmo di x, meno un terzo logaritmo di z. Vi faccio notare che se abbiamo un testo di questo tipo non è possibile in generale applicare proprietà delle potenze, anche se noi rileggessimo questa cosa come x alla un mezzo più y alla un mezzo, non potremo comunque separarli, perché qui c'è la presenza di un più, e quindi l'unica cosa che possiamo fare è questa, ed è quella di separare in questo modo, lasciando come unico argomento radice di x più radice di y, e quindi abbiamo logaritmo della radice di x più radice di y meno logaritmo di 3. Grazie per l'attenzione, vi rinnovo l'appuntamento alla prossima lezione sui logaritmi, in cui noi andremo a presentare le ultime proprietà di questi logaritmi. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata da nostro Andrea al Matematico, sigla finale, grazie, alla prossima!